Mike Tyson, è tornato e l'allenamento è impressionante. Può uccidere sul ring. In back. Mike Tyson con queste parole annuncia il suo ritorno sul ring. La leggenda della boxe ha quasi 54 primavera e dopo 15 anni da ritiro, ha indossato nuovamente i guantoni. I Ron Mike si è mostrato ancora una volta sui social durante un allenamento con il suo quacrafa e il cordeiro. Impressionante la reattività, la potenza, e la cattiveria agonistica del campione, che è sembrato ringiovanito in quello che è il suo habitat naturale, pronto per quella che potrebbe essere la sida più intrigante della sua vita, e su cui alleggia ancora il mistero. Pochi mesi fa si era detto stanco della vita, ma oggi ha ritrovato stimoli ed energia nella boxe. Ancora una volta i guantoni hanno salvato Mike Tyson, vera e propria icona del pugilato. A 15 anni dal suo ritiro dalle scene, dopo una carriera super, a 20 anni divenne il più giovane campione del mondo dei pesi massimi, rovinata da atteggiamenti sopra le righe e da una vita privata a dir poco travagliata Iron Mike ha deciso di rimettersi in gioco. Su Instagram il classe 1966 ha mostrato i video dei suoi ultimi allenamenti sul ring in compagnia dell'allenatore Rafael Cordeiro, tre volte campione del mondo di Muay Thai.